Ehi Mario, come sono andate ragazzi? Bene bene, l'ha fatto il video per Barletto? Ma ci ho fatto tanto ragazzi Ma chi lo dici? Pensa che dovevo fare un video per Emanuele Meno male che non è venuto, che siamo ristormiato una rottura di palle O fine dell'opposità Zagno Va bene la volta Stop the rock 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 Emanue, ma che state facendo? Niente, il video per barletta Ah, a proposito di video per barletta Mi ho fatto uno nuovo, mi dici che ne pensi? Emanue 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 Emanue